Bentornati su Imperium, oggi siamo nelle grandi battaglie di Roma Siamo con la battaglia di Gergovia, 52esimo avanti Cristo Ok E bom, con Vercinge dobbiamo conquistare la Grecia Non è ancora che cazzo dici? Passo il mio collega a giocare Anno 52 avanti Cristo Il nobile Vercinge Torige è riuscito a unificare le tribù galle Mettendosi al comando della resistenza contro Roma Combattere per la libertà, però, richiede sacrificio Il comandante Gallo rade al suolo i propri villaggi Per lasciare le legioni romane senza viveri La strategia dà i suoi frutti E rende Vercinge Torige un nemico molto temibile per Roma A Cesare resta solo una possibilità Attaccarlo nella sua capitale, Gergovia Non puoi continuare a sfidare Roma, Vercinge Torige Arrenditi subito O distrut... DAME ASUS Roma ha già oppresso abbastanza la Gallia, Romano Preparati a morire All'attacco Per la Gallia Oh, c'è lì tutti Sti romani di merda Ma come? Ma non posso contro... Non posso contro un cazzo Dio cane, ma che cazzo mi fa vedere sta battaglia finta? Che finta Ma hai finta Ci sono solo gli effetti speciali Oh, mi sto morendo l'eroe Ah, è morto il pixel C'è l'imposcata C'è l'expata qua, è il tizio Beh? Ehm... Oh, ma che cazzo vuole? Tutti i passi fino a Gergovia sono protetti Siamo pronti a dare ai romani l'accoglienza che si meritano Assicurati che si mandino rinforzi per proteggere i capi Se questi cadono, i guerrieri si disperderanno Ai tuoi ordini, Vercinge Torige Minchia, se abbiamo capi come loro, allora... Livello 1, no? Ma vaffan... Tanta d'attacco Oh Ah, c'hai pure... Oh, c'hai... Engerberg Engerberg è tedesco questo Einstein pulizai, ma la nera, na nera Oh, questo mi piace Maestra Marcia forzata Metto questo, mi spiega Maestra Maestria Maestra 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 Ma i colleghi villaggi Porco Dio, non vi lascio neanche i viveri Sono miei, tutti miei Morite, vermi Allora, vediamo un po' come siamo messi ai passi Dai, ma fanno schifo Capo dei buoi? Che cazzo dici? Capo dei buoi Colione Questo come si chiama? Non c'è lì il capo Come si chiamano i capi? Ma chi se ne frega come si chiamano i capi? Capo notabile Ma questo è un notaio Notabile Notaio di Ma pure incursione della mano 16 Oh Contro i veliti Ammassateli tutti Sì, sono un po' morenti questi Comunque Mi rispondono quelli cavalieri Quei petoriani Beh però In che livello 8 Ecco, ti hanno conquistato il passo dei tribuni No, potevi lasciare le impostazioni Gli arcini Fingevano più danno Tranquillo E sotto te li hanno ammazzati tutti Mi sa, sai Un capo è morto Un capo è morto Che cazzo devo fare? Porca puttana Dai Mamma mia Se iniziamo così Allora Ammazzica Oh, guarda il Fand Che si è li uccisi tutti sotto Non lì Sotto Sotto Il passo dei tiguri Dove c'è il notaio Minchia Ha fatto fuori tutti Infatti è spatual 24 Oh, grande Ah no Le incursioni romani Sono finite Penso 3 capi sono morti Minchia 4 capi sono morti Cosa stai fando male? Digertemi al Gergovia I rumani ci attaccano Tutte le loro forze Minchia Calma 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 Che fallo Vai attacca Attacca Ma perché non attaccano I capi I capi Di Obornobis Mamma mia Quante unità Che stanno Mandando Non so se Ce la facciamo Arreggere Questa battaglia Ma vabbè Ma vaffanculo Le viste Così Ma guarda quanti ce ne hanno Sono impressionanti Ne hanno un macello Vediamo Vediamo quanti Ne stanno arrivando Ancora Da sud Piccolo Minchia Ah ma forse Hanno solo quelli Eh sta lagghiando Oh forse Ce la facciamo Ma fu più Forse Abbiamo 4 fand Qua 5 fand Allia Li abbiamo Seguitemi Ma quanti Lo stivelli Ti cacca Minchia Li uccidi tutti Dai Dai Solo così Attenzione Attenzione Qui che è finita Guarda la lappa Oh Cioè ancora adesso Io sento l'eco Della sua vittoria Cioè io quando prestate Dove è Cingisora C'è in giro Che parlo Non si rendi conto Hai conquistato la Grecia Esatto Bene Anche questa grande battaglia Finisce qui Con la conquista della Grecia